Molto importante ora che incominciano ad esserci dei dati, che ci sia un tessuto vivo di organizzazioni civiche, ma anche di istituzioni che vogliano collaborare, perché i dati vanno garantiti con un flusso continuo di aggiornamento e con una qualità nell'informazione e nei formati, perché è fondamentale analizzare sia quello che sta succedendo, quindi come il PNRR viene implementato, ma anche avere una capacità di rimodulazione rispetto alle sfide che cambiano, perché il contesto internazionale è mutevole, perché ci sono crisi di mercato, ci sono crisi economiche, e quindi vi è la necessità di mettere al centro i dati, i dati vanno ottenuti, vanno richiesti, poi vanno analizzati. Dobbiamo capire come fare le cose, come migliorare, e questo è un lavoro che necessita di una grande applicazione da parte di soggetti diversi, quindi c'è la necessità di collaborare e di creare una rete di studio e di analisi dei dati.